Andrà in onda domani 9 luglio la serie turca di successo ed ecco alcune anticipazioni su Love is in the Air. Assolutamente da non perdere, sta tenendo incollati proprio tutti la nuova serie turca in onda nei pomeriggi di Canale 5. Domani sarà in scena una nuova puntata di Love is in the Air ed ecco svelate alcune anticipazioni scoppiettanti. Il matrimonio tra Selin e Ferit incontrerà non pochi ostacoli ma i due cercheranno in ogni modo di farcela. Qualcuno in particolare farà di tutto per non farli sposare. Sono già diverse le stagioni in cui la serie turca sta attirando l'attenzione del grande pubblico italiano. Dopo il successo della serie con protagonista Kenny Aman, il pubblico di Canale 5 sta vivendo ancora forti emozioni insieme ai nuovi attori di Love is in the Air. In tanti si immedesimano nelle storie raccontate e sono moltissimi i fan curiosi di sapere come andrà a finire. Domani 9 luglio andrà in onda un'importante nuova puntata dove si scoprirà cosa succederà al matrimonio tra Selin e Ferit. Ad ostacolare le nozze entra in gioco Eda che però compirà un errore fatale tanto che tutti scopriranno la verità. Una puntata assolutamente da vedere quella di domani dove Eda cercherà è in ogni modo di ostacolare il matrimonio tra i due innamorati. Selin e Ferit infatti, non vedono l'ora di partire per l'Italia in attesa del loro grande giorno. I due sposi cercheranno di raggirare ogni ostacolo ma Eda sarà una stratega quasi perfetta. Per conquistare la fiducia di Selin, Eda annuncerà il suo matrimonio con Serkan e non solo. La giovane studentessa inoltre, dichiarerà che sarà Eda ad aiutarla nell'arduo compito di cercare il vestito. Un piano davvero ben fatto se non fosse che la strategia della giovane sarà presto scoperta e per lei la situazione si capovolgerà. Grazie a tutti.